L'amministrazione comunale di Arconi i giorni scorsi ha avviato le procedure di esproprio per procedere con la realizzazione del tratto ciclopedonale tra la rotatoria a sud del Poli e l'incrocio con via Cavallo nei pressi dell'Eurospar. Ora manca la valutazione economica ma anche su questo fronte sembrano esserci notizie positive. Nel giro di due mesi, ha dichiarato il vice sindaco Bresciani, dovremo completare le valutazioni economiche, completare la procedura di esproprio e dare avvio alla messa in appalto della ciclopedonale. La fase tecnica si può dire completata, continua Bresciani, e i tre privati interessati hanno visto accolte le osservazioni fatte al progetto. L'amministrazione si sta organizzando attraverso i tecnici comunali per fare in casa il computo economico delle particelle che saranno espropriate. Si così potrà raggiungere Riva e la zona commerciale in totale sicurezza. Tanti gli intoppi che hanno rallentato e costretto a revisione il progetto a partire dall'ultimo stop imposto dal servizio Bacini Montani dovuto a un'area di sosta del bus che prevedeva la copertura di un tratto del vicino torrente.